fra le generazioni e il gioco che include gli altri per esempio includere bambini con chi hanno bisogni particolari per esempio con degli handicap in USA we have boundless playgrounds open for handicap children allo c'è negli Stati Uniti noi abbiamo proprio dei parchi gioco dei parco giochi che sono praticamente aperti a tutti i tipi di bambini anche bambini con magari con degli handicap diciamo bambini particolari per esempio c'è una bellissima altalena ad elefante su cui puoi mettere una carrozzella e per esempio anche nel futuro che persone che sono professionisti del gioco che aiutino a creare aree di gioco per i bambini che è il loro commento finale che il gioco è una lingua universale globale e il potere del gioco per il bene sociale per creare un mondo migliore e anche l'idea del gioco magari un po' più profondo spirituale non solo il gioco immediato quello che si vede soltanto così oppure che ci aiuti con le nostre crisi esistenziali o nella ricerca di qualcosa di un po' più profondo è molto importante pensare ed esplorare il il circolo magico del gioco e anche lo scrittore sempre il C.S. Lewis aveva fatto la teoria che il gioco era come un prebattesimo che noi chiamiamo per esempio questi festival internazionali di gioco sono come una preghiera secolare non dobbiamo ovviamente fare che il gioco sia il nostro Dio ma pensare al gioco in relazione a Dio dice la nostra conclusione finale di creare una connessione con i bambini e di connetterci proprio al nostro bambino interiore e così non si diventa mai vecchi di essere proprio dei promotori del gioco perché il gioco è quello che segna la nostra la fanciullezza ed è cercare di essere il più devoto possibile a cercare di migliorare le opportunità di gioco di tutti i bambini un'altra conclusione finale di stare attenti ai pericoli spirituali che ci sono nel gioco ma di sperare e pregare di rimanere sempre un bambino dentro per poi trovare la propria fonte di giovinezza o anche per arrivare in paradiso questa è la fine grazie Allora c'è tempo per chiedere per discussioni o domande o commenti non ho bisogno di mettere un microfono per fare il video grazie ne avrei due in realtà di domande però la prima la prima nasce da un'osservazione nelle foto nelle foto quelle dei giochi di strada in genere si vedono soprattutto maschi è più io ricordo nella mia infanzia io giocavo in strada però è vero che era molto difficile trovare delle altre femmine che giocavano in strada allora mi chiedo se questa è un'osservazione personale o se voi trovate che sia effettivamente una cosa che succede di solito e quindi e quindi se questo ha comportato nello sviluppo anche femminile e maschile delle differenze e di solito this actually influenced in the development of play for the girls, for the boys not solo of play but life yes, just life in general if it influenced something that there was more boys than girls in street play I think that in the early part of the 20th century it was in America in Europe a lot of people were pictures of a more physical activity if you would like to see girls playing baseball then you would have 100 people ok, I'll tell her allora, praticamente lui dice che molto delle foto, soprattutto nel 20's secolo, le prime foto facevano vedere foto di bambini che facevano attività fisiche anche abbastanza, che ne so, tipo il baseball e lui dice, all'epoca forse erano anche giochi che le ragazze non giocavano tanto, mentre adesso è molto probabile vedere una squadra femminile di baseball, che lo era l'ora. It's structured, it's structured, she says. Yeah. Lei intende tipo il gioco più libero, forse. Maybe she was talking more about the free kind of play, not structured play as much. Well, most of the pictures that we've included from the early 20th century are structured. Dice, beh, allora, la maggior parte delle foto che loro hanno messo qui in queste slide sono più strutturate, quindi si vedono anche più maschi. Però, per esempio, si vedevano le ragazze che facevano il salto della corda. E, per esempio, disegnavano con il gesso. E non si vedevano ragazzi, non si vedevano maschietti nella foto, infatti. Però i maschi fanno il salto della corda, anche se poi non si vedeva in foto, però. Comments about the gender issue, Jim? No, not really. It's just research suggests that girls play in smaller groups. Allora, dice, lui non ha particolari commenti, dice, però le ricerche indicano che sembra che le, diciamo, le femmine tendono a giocare in gruppi più piccoli. Hanno questa tendenza. Sì, lui dice che adesso, infatti, si incoraggia di più che le ragazze siano anche coinvolte in sport, magari non propriamente femminili, però che siano magari cose un po' più dure, non proprio da femmina, piuttosto perché negli anni addietro però questo non si faceva. Proprio le bambine non lo facevano. Infatti le foto indicano di più, non lo so, il salto della corda piuttosto che il disegno, invece, del gioco, del baseball. Ecco. And those types of values are started very early in the home where, you know, as Jim said, girls are engaged in certain types of play and boys are engaged in certain types of play and that gets reinforced very early. Licee è molto spesso, quel tipo, cioè, molte volte il maschio, diciamo, fa un tipo di gioco e la femmina un altro. E questo spesso viene rinforzato molto da piccoli, no? Magari, non so, le bambine giocano più con la bambola e questo viene rinforzato di più. Quindi, ovviamente, nel crescere non è la tendenza a fare altre cose, non c'è. Sì, per esempio, come se il maschio iniziasse a giocare con una bambola oppure dice, facciamo, vestiamoci come a volte fanno le femminucce, il genitore subito direbbe, no, non lo fare. Cercherebbe di scoraggiare subito questa tendenza a fare quel tipo di gioco. Perché alcuni padri direbbero mio figlio non gioca con le bambole. Sì, buongiorno. Io prima ascoltavo attentamente la descrizione che faceva appunto del mondo di oggi, delle differenze tra i bambini di ieri e di oggi e mi sembrava di sentire, di vedere le stesse cose che ho potuto osservare nel nostro paese. So, she said she listened carefully when you were talking about the differences of children, you know, 30, 40 years ago to children now and she saw that this is true. Volevo dire che quello che io ho osservato qui in Italia, insomma, nella mia esperienza, oltre, appunto, che è cambiata molto la tecnologia e tutto è molto più strutturato. Okay. So, she says what she has observed here in Italy, especially with the fact of the technology and a very structured life for children. È cambiato molto anche, sono cambiate le cose anche da un punto di vista legale proprio. That she says there has been a big change also from the legal point of view. Io ho coordinato un centro ludico per molti anni e vent'anni fa, per esempio, noi cucinavamo insieme con i bambini usando coltelli. oppure attorno alla piscina giocavamo a lanciarci dal bordo. e progressivamente sono arrivate sempre più regole proprio legali in cui uno sarebbe finito nei guai. Non si può assolutamente più, addirittura in alcune scuole non si possono neanche portare cibi fatti in casa per festeggiare. e moltissimi dei giochi che si facevano appunto a volte ti portano ad un limite di un piccolo pericolo ti puoi anche fare male e per questo eccesso di protezione e protettività non è più possibile anche nei luoghi deputati per il gioco poter fare dei giochi. And she says because now there is such a big deal on the fact of danger because she said some of the games of course there was a little roof for danger something can happen but now they cut out anything that could be dangerous so there are so many limits to what you can do even in places that are made for play there's just limitations because of legal issues Volevo sapere se loro hanno una ricetta per combattere questo She says she was wondering if you have like a recipe to fight this for over over protection thank you for your comments we find that America has become a very litigious society as well where people are suing and that's one of the biggest barriers to children playing out of doors the stranger danger where their child is going to be abducted Dice purtroppo questo è uno delle cose più diciamo è uno delle più grandi limiti nel giocare fuori perché per esempio hanno sempre paura che qualcuno viene e ti porta via il bambino o per esempio le scuole oppure esempio i parco giochi hanno sempre paura che se il bambino si fa male mentre è in loro custodia che subito verranno denunciati dice questa è una delle statistiche che dicevano prima che praticamente il fattore gioco nelle scuole è sceso di una percentuale così alta proprio per questo motivo perché la gente ha paura di essere denunciata è solo per quel motivo non tanto perché uno non vuole giocare ma per paura di essere poi portati in tribunale dice un suggerimento che lui aveva perché anche lui era preoccupato per questa cosa ha detto nel 2010 lui praticamente ha vinto una borsa di studio per proprio studiare il gioco in Inghilterra e hanno proprio una professione in Inghilterra che si chiama playworker diciamo con lui che operatore di gioco mi sembrava operatore operatore di gioco è proprio un corso universitario con cui si fa la laurea in cui i studenti sono addestrati proprio per facilitare il gioco per i bambini e proprio per essere promotori per il gioco dei bambini per non ostacolare il gioco del bambino dice quindi ha visto in Inghilterra e anche in altri posti in Europa che hanno questi posti meravigliosi che si chiamano parco giochi dell'avventura dice il tipo di gioco che si fa in questi parco giochi sono avventurosi e anche rischiosi però uno dei lavori di questi operatori di gioco è proprio controllare il livello di pericolo in questi parco giochi e quindi se loro determinano che il beneficio di determinati giochi è più importante del rischio allora permettono che il bambino faccia questi giochi e ci sono delle ricerche che suggeriscono che diciamo la percentuale di ferite o di farsi male in questi parco giochi sono molto basse cioè i rischi sono molto bassi a confronto di un parco giochi normale perché perché il bambino è dato permesso al bambino praticamente di valutare lui la gradazione di pericolo che potrebbe diciamo ad andare incontro facendo quel determinato tipo di gioco quindi magari lui sentendosi che non ce la fa non lo fa lui stesso però non è che qualcuno gli va a dire non lo fare perché è pericoloso allora dice proprio per affrontare questo problema negli Stati Uniti loro vogliono proprio iniziare dei corsi proprio per questo tipo di operatore per creare dei spazio giochi per i bambini per fare la stessa cosa con la speranza che se c'è un adulto responsabile e naturalmente addestrato a diciamo controllare il pericolo del bambino che il genitore avrà più diciamo sarà un po' più tranquillo nel lasciare il proprio figlio giocare fuori all'aperto c'è questo piccolo questi fogli che adesso verranno distribuiti c'ha tutte queste informazioni parla di diverse organizzazioni di gioco ok sono tantissime adesso verrà distribuito ok 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 allora sono ha nominato un paio di organizzazioni mondiali che proprio per il gioco del bambino dice se non riuscite ad averne uno lasciate la vostra mail e vi sarà mandato c'è qualcun altro io vorrei parlare in inglese se puoi tradurre sì la mia domanda è per il signor Johnson prima ti racconti le teorie del gioco e sembra che il gioco funziona come un tool per socializzare per entrare nella comunità allora lui dice che la domanda era per il signor Johnson e praticamente prima lui parlava di come la funzione del gioco è per di socializzare e praticamente sta parlando di come lui ha parlato che il gioco può essere anche usato nella ricerca di Dio e lui non capiva bene quest'ultima parte lui sta chiedendo che vuole capire un attimo meglio la relazione tra il gioco e Dio vuole che si spieghi un attimo meglio perché non l'aveva capito allora dice lui è sicuro che il gioco ha molti scopi uno di questi scopi è aiutare il socializzare dei bambini e anche la rifletta diciamo aiuta nel riflettere e nel pensare a Dio proprio internamente dentro di sé dice questo è un altro scopo del gioco dice la combinazione è una domanda molto interessante bisogna pensare per esempio religiosamente del corpo di Cristo nell'eucarastia e è religioso su un livello simbolico ma suggerisce la comunità o la propria sociale della nostra specie umana ok aspetta ripeto ancora sorry l'importanza di pensare se c'è un livello di realtà nostra realtà mondana la nostra psicologia aiuta e il nostro inizio aiutare ma l'idea che si può connessare con le più sceglie della sceglie ok praticamente lui dice che il gioco naturalmente si vede abbiamo quello che si vede la realtà mondana del gioco però che può essere anche forse una scoperta dei nostri desideri più profondi delle nostre ricerche più profonde e naturalmente questo ci porta alla riflessione e a quello che noi veramente non lo so quello che vogliamo quello che pensiamo e quindi naturalmente anche ad una ricerca più spirituale non è un pensare scientifico è un pensare più pre-moderno pensare più al l'idea che sia più premoderno pensare religiosamente che abbiamo una identità più profonda cercare l'interesse l'interesse più profondo che noi non siamo soltanto il nostro corpo che siamo tipo è la nostra prigione ma cercare qualcosa al di fuori nel cosmo e quindi cercare la ricerca di qualcosa di più grande dice questa è soltanto speculazione e il pensare come un bambino se non ci sono altre domande chiudiamo questo incontro per lasciare spazio al successivo c'è un'ultima domanda sì sì last question hello mike hello jim non ho una domanda ma magari un commento per aiutare la prima domanda che è chiesto sui bambini contro i bambini ok 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 i doni ho una domanda più un commento ok a riguardo di quello che è stato chiesto a proposito dei giochi di maschi e femmine lei ha una laurea in educazione dei bambini e ho anche una designer di giochi quindi è le femmine parlano molto prima dei maschi generalmente quindi il loro livello di gioco è molto più sociale proprio per natura questo è il motivo per cui le femmine spesso giocano con le bambole e le fanno parlare i maschi sono più fisici loro non parlano si muovono quello che è successo proprio nell'educazione e nello sviluppo di come giochiamo e praticamente cosa è successo è che il cambiamento è avvenuto diciamo è cominciato a svilupparsi diversamente quando la scuola ha cominciato a permettere le ragazze di giocare sport da maschi prima negli anni addietro una donna una ragazza non poteva giocare a basket per esempio una ragazza poteva fare nuoto ma non poteva competere non poteva andare a fare competizioni quindi le ragazze hanno continuato a svilupparsi molto verbalmente che non poteva non poteva